Qualche mese fa, ho creato un server, nominato Dog Wars, dove in pratica hai tuo paese, dove puoi costruire cose all'interno. Ora se sta starete chiedendo, perché sì, ti chiama Dog Wars. Si chiama Dog Wars perché? I cani sono i tuoi soldati, e tu devi addomesticarli e farli moltiplicare. Puoi allerti puoi fare di tutto. La versione di Minecraft è Bedrock Editon. Vi interessa? Entrare nel server Discord di Dog Wars per maggiori informazioni, link nel commento fissato.